Il premio Donna Domani è un premio istituito nel 1988 dall'allora presidente della FIDAPA Zotti Sguera e ha l'intento di individuare allievi meritevoli per avviarle poi nel campo dello studio della cultura o del lavoro. Ha il sostegno ancora per quest'anno della Fondazione Caporasso che ha gentilmente messo a disposizione il premio per un'allieva che quest'anno sarà Mariolina Salerno dell'Istituto Alberghiero e quindi la FIDAPA che ha l'intento di sostenere la cultura, l'arte e le professioni cerca in questa maniera di creare una strada per poter guardare al futuro le giovani ragazze della nostra città e della nostra comunità. Sono contenta di questo evento soprattutto perché sono innanzitutto onorata che la FIDAPA abbia scelto il nostro istituto e sono particolarmente contenta perché la ragazza Mariolina merita davvero tanto. Complimenti a lei per il suo percorso e un percorso fatto soprattutto di essere, di crescita intellettuale, emotiva. Davvero sono felice, grazie. Io volevo ringraziare l'associazione FIDAPA per questa grande opportunità ma anche la scuola che da cinque anni mi offre grandi opportunità per entrare nel mondo esterno e nella società.